Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video, io sono JesusDarkness e questo è il canale dei due tra i tanti e siamo in un'altra puntata della stagione 2 di The Walking Dead Allora, siamo andati qui, questi morti erano persone, non zombie, quindi qualcuno ha ucciso delle persone e non si capisce bene chi possa essere Loro hanno fatto un nome, Kaver, mi sembra di ricordare, ma non ne sono sicura, non so chi è, per quanto ne sappiamo potrebbe essere Crystal ma non così tanti Vediamo un po' cosa ne penso Vediamo se puoi trovare qualcosa di altro Come cosa? Come cosa può dire noi chi ha fatto questo Ok, allora bisogna esaminare un po' di corpi Questo è anche scoperto Durante l'occhio? Sì C'è C'è il resto, e guarda per l'amore, per rinforzare a lungo Ok, allora parliamo anche con Nick Devo iniziare a ricordarmi i nomi ragazzi E' un po' arrabbiatino E' un po' arrabbiatino C'è un po' arrabbiatino Non ci sono C'era un po' arrabbiatino Ma cosa era? Fubauer Sì, continui a cercare queste. Questa è un'idea brutta. Non mi piace, non mi piace questo. Ma più o più tardi dovresti realizzare una vera semplice. Cosa, sei un uccolo? Che nessuno in questo mondo sarà mai dare un uccolo se ti piace qualcosa o non. Tu hai bisogno cresci, figlio. Qualcuno. Voi, Clem. Vuoi essere utile? Guarda la linea. Ci sta mettendo male. Non sarà più utile con l'aro. Va bene. Ci sto, ci sto. Guarda, 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 guarda. Questo è diventato zombie. Spero che questo non è nessuno che lo conosce. Non lo so. Bravo, non sparcare i colpi di fucile. Vabbè, più sull'altra parte. Guarda questi. Vediamo se c'è qualcosa sulle che ci diranno chi erano. Vabbè, sicuramente troveremo qualcosa. Anche perché sennò non ce lo farebbe fare. Vediamo un po' il corpo. Questo non ha niente. Vediamo un po' questo. Direi che ero molto interessato a questo prima. Questo è il nostro zaino. Il nostro vecchio zaino. Questo è il nostro zaino. Il nostro vecchio zaino. Chi è quella? Eh, la ragazza... No. Che cazzo è? Ti conosco? Chi è questo? Tu eri in le città con Christa. La donna con cui ero. Cosa è accaduto a lei? E' un bandito, ragazzi. Dicami. Dicami. No, non è morta, dai. Porremmo. Dovremmo dargli l'acqua? Ehm, dagli l'acqua. Umanità, dai. Magari ci dirà dov'è Crystal. Dai, dov'è Crystal? No, no, no. No, no, no. Ok. Ok. No, è stato morso. Ho visto un morso, ragazzi. Dicami. Dicami. Prendete i tuoi assi qui. I tuoi! No, cazzo. Si sta già facendo male. Dobbiamo uscire da qui. Ehm... Qua, dai. Eh, mi sa che ho scelto male. No. Ok, forse lo salviamo, ragazzi. Ok, prendiamo una bella assa. Yeah, yeah. Spacchiamo in testa a sto stronzo, dai. Eh, mano, dai. Ok. Va bene. E ora, in testa. Ottimo. E Nick? No, Nick non voglio che muoia. No, 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 no. No, ti prego, ti prego, no, ti prego. Scappa, scappa, grande Nick. Scappa. Ok, va bene. Scelta forse giusta. Uh, che figata. Si sta mettendo di merda. Quando si mette in merda il gioco ti... La prossima volta... Com'è la prossima volta? Cazzo, trailer. Si. Si. Alla prossima. Sì, sì, sì. Non c'è nessuno. Rilassati e mettete la arma, ragazzi. Pensavo che eri morto. Oddio, chi è? Hai provato a salvare Krista? Tu ho 80% dei giocatori. Hai riuscito il cane, 80% dei giocatori. Hai accettato... Mixapology. Non so cosa voglio dire, sinceramente. Ok, andiamo avanti. Hai dato l'acqua alla persona, al bandito, diciamo. Do you save Nick or Pete? Hai salvato Nick or Pete? Secondo me, qua, era un po'... Non so, magari non l'ho letto io. Ma non mi sembrava ci fosse da salvare. Pensavo dove bisognasse andare. Quindi, andiamo avanti. Io sono andato con me. Ok, ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio. Anche se è un po' corto, penso che ogni volta che finirà un capitolo, smetterlo di registrare, a meno che, appunto, siano giusto due minuti di registrazione, due minuti e mezzo. Ma dovrei rendermene conto come sarà per finire un capitolo. Non lo so ancora. Comunque, un video non durerà meno di 5 minuti e sarà proprio un caso ogni tanto. Comunque, se siete arrivati fino a qui, lasciate un bel mi piace. Io sono Gisus Darkest. Questo canale è dei due e tra i tanti. Continuate a seguire la serie se mi piace, a me sta piacendo abbastanza. Più là, secondo me, sarà molto più divertente e più avvincente. Grazie a tutti, ragazzi, per la visione. Buona giornata.